Si alza leggermente la curva dei contagi da coronavirus nella BAT. Dopo i 5 positivi registrati ieri, sono 9 i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore, alla luce delle informazioni contenute nel bollettino epidemiologico della regione. I casi odierni si riferiscono nello specifico a tre cittadini di Trinitapoli, il cui contagio sarebbe legato ad una festa organizzata a Margherita di Savoia, come è avvenuto già per altri infetti rilevati ieri. Tre barlettani sintomatici, mentre gli altri tre positivi si riferiscono alle città di Canosa di Puglia, Spinazzola e Margherita di Savoia. Alla luce degli ultimi casi sale a 486 il numero complessivo dei contagi registrati nella BAT da quando ha avuto inizio l'emergenza sanitaria. Ma ad allarmare il quadro pugliese dell'epidemia è sempre la provincia di Bari, dove si sta registrando il maggiore incremento di contagi dall'inizio della seconda ondata epidemica. Situazione particolarmente critica a Polignano a Mare, dove è stato rilevato un pericoloso focolaio all'interno di un'azienda dove risultano contagiati 78 dipendenti. A dare notizia questa mattina attraverso un video messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook il presidente della regione Puglia Michele Emiliano. Abbiamo registrato oggi 78 positivi al covid in una azienda. Stiamo intervenendo facendo centinaia e centinaia di tamponi, abbiamo messo in isolamento tutti i contatti stretti dei contagiati e stiamo realizzando a Polignano, luogo dove si è creata questa situazione, tutta una serie di strutture per accelerare l'effettuazione dei tamponi e per svilupparli in tempo rapido. Ovviamente è una cosa sicuramente preoccupante, ma che non deve spaventare nessuno. Noi ci siamo, siamo già intervenuti, il professor Lopalco, Vito Montanaro ed io stiamo già lavorando per minimizzare il danno di questa situazione, che però è una di quelle situazioni che prevedevamo si potesse realizzare e quindi in sicurezza procederemo a far funzionare le aziende, le scuole, le città, ma siamo in grado di intervenire rapidamente quando ce n'è bisogno.